Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Alex54 Oggi ragazzi siamo qui perché Volevo farvi un riassunto di quello che farò in questa fine settimana Ho fatto un video prima ma mi è venuto male proprio perché ho sbagliato Cioè che la Formula 1 ci sarà L'avevo detto che non c'era perché mi sono sbagliato Pensavo che era meno dell'8 marzo Invece oggi è 12 e quindi ragazzi ci sarà domenica Alle 2 La partita è comunque alle 7 di mattina No veramente alle 6 e 10 Domenica si dorme io voglio dormire Quindi ragazzi vedrò come ha fatto la MotoGP La vedrò su TV8 vabbè ovviamente Farò la live reaction Altra cosa Cioè che farò anche La live reaction Della partita di NBA Mi work Boston Si sto leggendo ecco qua Sto leggendo la programmazione di cielo proprio perché comunque Non so non sapevo che partita farò Quindi farò anche di questo Che altro Ragazzi quindi Il video finisce qui E quindi ragazzi Cosa dobbiamo dire Si lo so Molte Ehm Ah ecco Il concorso Viene annullato Perché Ehm Il concorso viene annullato Proprio perché comunque C'è questa causa coronavirus Quindi Non si farà E per molte persone che mi dicono Che 90 parole su 100 sono ragazzi Le diminuirò Infatti oggi ne ho detto 3 o 4 Non 90 Perché 90 in un video non ci entrano Della grandezza che faccio io Non ci entrano Quindi ragazzi Il video finisce qui Mi raccomando Iscrivetevi al canale E mettete la campanella Per non perdere nessun altro video Ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao